Verona Economia ben tornati, rimaniamo sul tema delle imprese artigiane e come vediamo dal sito veronaeconomia.it Confartigianato ha comunicato un paio di giorni fa una novità che riguarda i servizi alla persona, qui in particolare Carolina Calmetta che è responsabile di questo settore all'interno di Confartigianato Verona parla e dice bene il Green Pass ma no all'abusivismo perché dal 20 di gennaio poi anche le attività che rientrano appunto in questo ambito come saloni di acconciatura, centri estetici, studi di tatuaggi e attività simili insomma dovranno rivedere alcune normative, alcune regole soprattutto per quanto riguarda la certificazione verde e per parlare di questa, di questa data che si avvicina abbiamo in collegamento il direttore di Confartigianato Imprese Verona, Valeria Bosco, benvenuta. Grazie. Allora direttore dicevamo il 20 gennaio è una data importante per molte delle vostre attività associate perché stiamo parlando delle aziende che si rivolgono con servizi alla persona e che da questa data appunto dovranno introdurre il controllo del certificato verde, del Green Pass. Ecco cosa accadrà dopo questa data? Allora alla data del 20 di gennaio e fino alla fine dello stato di emergenza che in questo momento è fissato per il 31 di marzo i nostri oltre 2000 negozi e attività di servizio alla persona che ricordiamo sono i parrucchieri, quindi gli acconciatori, i barbieri, i tatuatori e le estetiste dovranno in aggiunta ai dispositivi sicurezza e al tracciamento della clientela e l'utilizzo ovviamente delle mascherine e il controllo della temperatura controllare anche il Green Pass base dei propri clienti. Quindi il Green Pass che si ottiene con un tampone e dura 48 ore oppure attraverso la vaccinazione o la guarigione dal Covid. Stiamo parlando di una platea di oltre 5.000 addetti che quindi saranno impegnati in questa procedura all'accesso del negozio. È una procedura che crea delle difficoltà soprattutto laddove ci siano dei clienti abituali perché ovviamente ogni volta che anche il cliente abituale frequenta il salone o comunque il negozio dovrà presentare questa certificazione e rallenterà un pochino diciamo le fasi di accesso. Ma la cosa che ci preoccupa maggiormente è il fatto che potrebbe manifestarsi come già è stato durante il lockdown un incremento delle attività comunque abusive perché ovviamente in quel canale il Green Pass non è controllato e non è controllabile quindi questo meccanismo di controllo e su questo la Presidente Calmetta si è espressa e ovviamente tutta la Confartigianato Verona si esprime con una tolleranza zero all'abusivismo nel senso che nonostante questo sia un incremento di burocrazia per chi sta lavorando in questo momento nel servizio alla persona come sempre abbiamo fatto noi accogliamo le regole le insegniamo ai nostri associati a tutte le imprese veronesi e assolutamente caldeggiamo e vogliamo che vengano rispettate infatti sul sito di Confartigianato Verona è scaricabile il cartello da mettere all'ingresso dei negozi per spiegare alla clientela questa cosa e ovviamente siamo disponibili per spiegare come bisogna comportarsi nel caso di dubbi. Ci auguriamo naturalmente che questo ulteriore incremento della burocrazia agevoli aiuti, superamento delle fasi acute della pandemia e porti il prima possibile a un nuovo regime di normalità per i nostri punti vendita dei servizi alla persona. Tra l'altro il fenomeno dell'abusivismo potrebbe sembrare un fenomeno marginale ma vista la fermezza con la quale vi siete esposti chiaramente segnalando questa ipotesi chiaramente da scongiurare evidentemente non è solo marginale, è un fenomeno abbastanza diffuso purtroppo. È un fenomeno diffuso che lo era anche prima della pandemia ma che durante la pandemia è esploso con numeri importanti perché naturalmente i servizi alla persona vanno a toccare una fase di piacere dei clienti ma spesso anche una fase di bisogno reale che tutti noi abbiamo non solo da un punto di vista estetico ma anche della salute e quindi così come durante il lockdown abbiamo fortemente chiesto la riapertura del servizio alla persona in sicurezza perché si può lavorare in sicurezza adesso ovviamente chiediamo che tutte le attenzioni che sono richieste agli imprenditori nel servizio alla persona servano poi a beneficio di tutti e vadano di pari passo con i controlli e chi invece le regole non le rispetta. Tra l'altro Confartigianato Imprese Verona è anche impegnata nei corsi di formazione a qualifica per chi lavora in questo settore per cui noi accogliamo e l'abbiamo sempre fatto anche durante questi due anni giovani imprenditori e imprenditrici che vogliono aprire delle attività, in particolare i tatuatori sono esplosi negli ultimi mesi perché è un tipo di attività che piace, che funziona molto bene e quindi noi che lavoriamo molto sulla formazione, sulla qualifica, sul rispetto delle regole abbiamo bisogno che poi gli organismi di vigilanza assolutamente controllano chi invece non lo fa perché altrimenti ovviamente è un volano che incrementa un po' più l'abusivismo, ecco quindi ci sono delle difficoltà, come sempre l'imprenditore artigiano è resiliente e rispetta le regole e l'associazione lavora da questo punto di vista, bisogna che i controlli siano puntuali e chi rispetta le regole venga poi anche premiato per il fatto di averle rispettate. Tra l'altro ha fatto bene ricordare comunque che per accedere a queste strutture, quindi parrucchieri, estetiste eccetera, serve la versione base ottenuta con il tampone, non il rafforzato quindi tutto sommato non c'è una restrizione così forte, quindi anche con un semplice tampone molecolare o antigenico si può accedere. Tra l'altro Confartigianato va incontro anche con dei rimborsi se non sbaglio, no? Infatti in aiuto a chi lavora nel comparto artigiano, i titolari del comparto artigiano San Inveneto che è il nostro fondo sanitario appunto per chi opera nel settore dell'artigianato anche per il 2022 rimborsa i tamponi per i titolari, i soci e i dipendenti delle imprese artigiane, questo vale per tutti e quindi quegli imprenditori e quelle imprenditrici che vogliano attuare nelle proprie attività di impresa degli screening del personale possono farlo contando sui rimborsi di San Inveneto e anche chi lavora nel comparto artigiano può chiedere rimborsi, noi abbiamo uno sportello attivo in Confartigianato per cui poi ci possono scrivere e viene fatto un rimborso anche di questi tamponi. Stiamo lavorando per rinnovare anche le campagne, riaprire sicuri che rimborsavano anche i dispositivi sicurezza e mai così vicini che dà una diaria a chi è malato e quindi costretto alla quarantena e quello è un'attività che le parti sociali stanno insomma in queste settimane e in questi giorni anzi valutando per rinnovarlo perché ricordiamo che San Inveneto è un tavolo congiunto dove siedono i sindacati dei lavoratori e le associazioni datoriali del comparto artigiano, quindi diciamo tutto il mondo artigiano, le parti sociali, la parte imprenditoriale, la parte di rappresentanza dei lavoratori lavora per mantenere il lavoro attivo e in sicurezza. Adesso si è aggiunta questa cosa in più, speriamo insomma di andare velocemente verso un superamento delle difficoltà. E ce l'auguriamo tutti. Allora davvero grazie a Valeria Bosco, direttore di Confartigianato Imprese Verona per questo aggiornamento importante e insomma avanti tutta. Grazie, buona serata. Buona serata e allora andiamo avanti, noi lasciamo spazio a un po' di musica e poi torniamo per l'ultimo ospite di giornata.